Eccoci qua, anche quest'anno noi di AIRC siamo in tante piazze, 40 piazze in Umbria, per raccogliere fondi per la ricerca oncologica grazie alla vendita delle azalei. Le nostre azalei, per fortuna, anche quest'anno stanno andando a Ruba, quindi mi sento di ringraziare tutti i volontari e tutti coloro che si sono fermati ai nostri banchetti. Ringrazio anche i commercianti del centro di Perugia che molti hanno aderito all'iniziativa di mettere una zalea in vetrina per ricordare appunto questa iniziativa, vicini ai 5.000 ricercatori italiani che ogni giorno lavorano per rendere il cancro sempre più curabile. Sono Alessandro, sono in piazza Perugia, sono volontario, ho iniziato quando facevo l'università, quindi sono più di 25 anni. Sono volontario perché sono convinto che tramite il contributo sia dei volontari che delle persone che vengono ad acquistare riusciamo a fare cose importanti per la ricerca e dare grossi contributi che possono servire nella vita di tutti i giorni. Invito anche altre persone ad udirsi sia come volontari che come acquirenti delle cose che noi mettiamo in vendita con il nostro tempo che diamo a disposizione. Tanto la zalea me la prendo per me perché sono un'appassionata di fiori, poi oggi è la festa della mamma. Io sono passata qui ma sapevo che oggi era la giornata per aiutare l'AERC e tutti coloro che hanno avuto dei problemi e non solo perché può colpire a tutti chiaramente. Io sono una testimone, sono stata operata il 3 settembre, mi sto salvando, fra virgolette. Quindi è importante aiutare la ricerca perché aiutare il prossimo è anche aiutare se stessi.